Oggi il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo dedicato alle professioni infermieristiche e a Florence Nightingale in occasione del secondo centenario della sua nascita. Il francobollo si presenta con una tiratura di 300.000 esemplari ed in esso è raffigurato sullo sfondo di Ponte Vecchio a Firenze il ritratto dell'infermiera Florence Nightingale affiancata dal diagramma relativo alle cause di mortalità che elaborò la Florence Nightingale stessa durante la guerra di Crimea. Ma che cos'è un francobollo? Il francobollo è un prodotto emesso dallo Stato e rappresenta una prova di pagamento anticipato del servizio di corrispondenza. Ma il francobollo è solo questo? No, il francobollo svolge anche una funzione culturale molto importante è un omaggio all'importanza della memoria e a tutto ciò che aiuta a consolidarla e conservarla nel tempo è un modo di rendere attuali eventi e personaggi passati disegnando per loro un presente che li valorizza ed un futuro che non dimentica il francobollo di oggi vuole tracciare con un tratto artistico i valori e i meriti di chi nel corso della propria vita studiò e trasformò il lavoro infermieristico in un approccio scientifico e orientato ai dati permettendo di abbattere i tassi di mortalità dei ricoverati durante la guerra di Crimea ma questo perché Florence Nightingale coltivò da sempre la convinzione di essere stata chiamata in qualche modo da Dio e di dover dedicare la propria vita ad aiutare le persone più bisognose e al contempo Florence Nightingale riuscì anche a fondare e creare una prima scuola per infermieri a Londra tuttora esistente ed è anche per questo che Poste Italiane vuole valorizzarne ancor più i meriti oltre al francobollo sono previsti tutti i prodotti correlati all'emissione dalle tessere filateliche, le cartoline annullate primo giorno di emissione il bollettino illustrativo e soprattutto il nostro fiore all'occhiello, il folder una raccolta filatelica a tiratura numerata e limitata costituita nella fattispecie da 2300 esemplari